Il piano che è stato presentato al Tribunale Ci sono tutte le condizioni per arrivare a fine anno in una condizione addirittura di parità di bilancio, tutte le condizioni per dare tranquillità finalmente ai lavoratori e consentitemelo soprattutto tutte le condizioni, qualora il Tribunale dovesse condividere questo percorso da avere dopo l'estate un servizio più efficiente. Ovviamente ci sono anche delle azioni molto dure perché non è più il tempo delle sacche di inefficienza, non è più il tempo di consentire un'evasione alta, non è più il tempo di una volta soprattutto perché pur essendo ancora la funzione regionale è l'unica città d'Italia in cui il comune si fa parte principale del finanziamento dell'azienda addirittura nella stessa misura economica della regione. Se le cose vanno come devono andare noi potremmo dire da qui a qualche tempo che Napoli riesce non solo a salvare ma a dimostrare che pubblico si può fare in modo trasparente, in modo efficace garantendo lavoratori, qualità del servizio e pubblico. Ci vuole anche la collaborazione dei lavoratori dopo anche casi di chiusure improvvisate della funicolare? Non ci vuole la collaborazione dei lavoratori e delle lavoratrici di più. Una sfida di questo tipo senza le lavoratrici e i lavoratori, senza l'azienda e senza il comune non la vinci. Se qualcuno si sfida si sfila, la sfida è persa. Questo è l'appello che io faccio a tutti. Questo è il miglior risultato possibile. C'è stato un grandissimo lavoro di squadra e voglio ringraziare tutti. Vi assicuro che siamo passati materialmente dalla firma della missa e liquidazione di ANM il venerdì sera prima di Pasqua a questo piano. Ovviamente se ci sono contributi migliorativi nel corso delle settimane, dei mesi, questo non può che essere un vantaggio. Se qualcuno invece gioca al mantenimento del privilegio o si sfila, c'è il rischio che salta tutto. E se salta tutto chi ne paga le conseguenze sono innanzitutto i lavoratori, le lavoratrici, l'azienda e poi anche chiaramente i cittadini. L'Avvocato Marotta ha sottolineato che rispetto ad altri comuni e capoluogo Napoli ha una quota minore del Fondo Nazionale dei Trasporti. Lei pensa di aprire un fronte su questo nuovo governo? Ma i fronti che abbiamo aperto sono fronti infiniti. Però quello che mi fa piacere è che un professionista come Marotta, che ha un quadro nazionale, sin dal primo momento ha notato non solo la grande professionalità, passione e capacità che c'è in questa città, la grande iniezione anche di risorse economiche che ha messo in campo il Comune di Napoli, nonostante è un ente in predissesto e nonostante la funzione è ancora regionale, ha messo in evidenza anche le discriminazioni evidenti che ci sono anche nel comparto del trasporto pubblico, nella distribuzione delle risorse a livello nazionale. Perciò Napoli è veramente un laboratorio anche per questo. Perché nonostante tutto questo oggi noi presentiamo al Tribunale un piano che consente il salvataggio, il rilancio e il mantenimento dell'azienda pubblica, che ci consente anche di essere competitivi per ogni sfida del futuro. Il nostro obiettivo non è solo mantenere il posto ai lavoratori e alle lavoratrici, non è sufficiente. Bisogna avere anche un servizio finalmente all'altezza della città di Napoli e soprattutto non è più tollerabile che accada quello che è accaduto nei giorni scorsi, che non ha nulla a che vedere con condotte sindacali corrette né con patologie effettive che si sono verificate. Io penso che in questo momento c'è bisogno di un grandissimo senso di responsabilità. Io so di parlare a un'azienda, a delle lavoratrici, a dei lavoratori, la cui maggioranza, stragrande maggioranza, è fatta di persone che hanno la testa sul collo, sanno di che stiamo parlando, sanno i rischi enormi che si sono corsi e il baratro che si può ancora correre se non ci vince questa sfida. Se siamo uniti invece si potrà raggiungere un grande risultato. Io credo che meglio di questo non si poteva fare. Quindi siamo molto molto soddisfatti, soprattutto perché in un tempo piccolo abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti. E anche chi viene da altre esperienze ha riconosciuto che Napoli sta raggiungendo un obiettivo che nemmeno in altre città molto più blasonate, molto più finanziate, con capitali molto più grossi si è potuto raggiungere obiettivi di questo tipo. Non penso solo a Roma, ma penso anche a quello che si è fatto in altre città come al nord dove si è privatizzato il servizio pubblico.